Ci sono rocce a strapiombo sulla strada provinciale 96 e su un gruppo di abitazioni di Novara di Sicilia. Si deve intervenire con la massima urgenza. Questo aveva evidenziato il sindaco Gino Bertolami e la protezione civile regionale riguarda la pericolosità del costone roccioso in località Rocca Roccazza a monte dell'abitato di via Ravenna nella frazione San Basilio. Il dirigente generale della protezione civile regionale Salvatore Cocina ha accolto questo appello disponendo un intervento per 150 mila euro. Su questo sito l'architetto Francesco Benedetti funzionario della protezione civile regionale dopo essere intervenuto a seguito dei danni registrati il 5 e 6 dicembre scorsi a Novara di Sicilia ha redatto un verbale di somma urgenza perché si ritiene necessario proteggere il territorio e la pubblica incolumità. L'architetto Benedetti che è stato indicato anche come RUP del progetto su Rocca Roccazza dovrà peridisporre tutti gli atti necessari per realizzare i lavori e neutralizzare le criticità presenti in questa parte del territorio. Nel frattempo la città metropolitana di Messina ha assegnato un contributo di 10 mila euro che il sindaco Cateno De Luca aveva promesso al sindaco Bertolami nel giorno in cui ha effettuato il sopralluogo in tutti i comuni del barcellonese colpiti dal maltempo. La stessa città metropolitana ha avviato anche uno studio sulla vulnerabilità idraulica del ponte San Basilio lungo la strada provinciale 96 a supporto della progettazione esecutiva che prevede opere di difesa dell'infrastruttura posta sul torrente Vallebona. Si tratta del ponte che conduce anche alle zone di Vallancazza e di Roccazza e Badiavecchia che il 5 e 6 dicembre scorsi è stato messo a dura prova dalla piena del torrente sottostante e dal fango. Lo studio è stato affidato all'ingegnere Giuseppe Tito Aronica. Il progetto per riqualificare il ponte sul torrente Vallebona risale a lontano 2014. Ora sarà finanziato con economie provenienti dall'Unione Europea per 1 milione e 500 mila euro.